come va? addormentiamo a un momento di lavoro io non vedo l'ora che i miei capelli tornino lunghi in modo da poterli appuntare così adoro proprio tirarli su quelle bocchette vi ricordo tesori che sul canale trovate anche il video in cui realizzo questo burro questo è veramente tanto tanto nutriente sto notando che dopo lo spazzolamento viene assorbito maggiormente dalla pelle rispetto al solito 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 i lati del collo qua tutti i muscoletti che partono dalla colonna vertebrale e passano dalla scapola, si inseriscono sulle scapole e vado a fare uno dei miei massaggi preferiti, quello che chiedo sempre, che va in contemporanea ad ammorbidire proprio questi muscoletti laterali adesso potrullo di qua ma vale la pena aspettare perchè è talmente buono ciao a tutti benvenuti o bentornati su Arasule ASMR Naomi è tornata a trovarci per un altro video super rilassante ogni volta cerco di provare qualcosa di nuovo vediamo un po' se ci riuscirò intanto mi ricordo che giù in descrizione vi lascio i link di Naomi sia di instagram che al suo vlog su youtube bene cominciamo subito cominciamo subito vediamo un po' cominciamo con i profumi oggi oggi ti faccio sentire il frankincenso l'altra volta mi sembra che avevo fatto sentire il benzoino si ok proviamo con il frankincenso è più fresco buono anche se ti va tosso non preoccuparti perchè non è assolutamente tossico ed ecco qua super profumato ho anche un po' di attrezzini nuovi oggi eh da farti provare quindi 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 cominciamo subito con il provare a tirarti su i capelli ok proviamo con queste pacchettine se ti tiro troppo e ti faccio male dimmelo eh va bene 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 io non vedo allora che i miei capelli tornino lunghi in modo da poterli appuntare così adoro proprio tirarli su quelle bocchette allora allora oggi comincerei con uno spazzolamento leggero che serve a riattivare la circolazione e a permettere una migliore penetrazione poi del puro corpo che andrò ad utilizzare quindi quindi cominciamo con una spazzolatura leggerissima è una spazzola ti sta graffiando ti da fastidio è una spazzola apposita proprio da usare per un massaggio a secco proprio per fare questo lavoro qua e e e e e e adesso passiamo alle spalle pelle liscissima abbronziata molto bella vieni l'assolo pure morbido è il braccio rilassalo adesso vado ad applicare un gocciolino di gausteria intanto senti il profumo dell'olio essenziale che si sta sprigionando molto balsamico e questo lo vado ad applicare solo in questa parte del corpo perché è un olio essenziale indicato proprio per i punti dove si accumula maggiormente lo stress in questo modo dopo che abbiamo anche spazzolato la pelle viene assorbita super bene 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 adesso faccio provare anche a te questo burro che ho realizzato personalmente unendo alcuni ingredienti come il burro di karité, il copau e sono tutti burri che ammorbidiscono e nutrono la pelle vi ricordo tesori che sul canale trovate anche il video in cui realizzo questo burro questo è veramente tanto tanto nutriente l'ho fatto da applicare intanto sulle spalle e sul torace e poi anche sulle braccia spero Naomi di non macchiarti in vestiti è un burro davvero tanto 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 ricco grazie a tutti ti lascio andare il braccio e adesso andiamo da quest'altro lato sto notando che dopo lo spazzolamento viene assorbito maggiormente dalla pelle rispetto al solito e adesso andiamo a prendere il braccio e la pelle riscaldi e la pelle riscaldi e la pelle riscaldi Grazie a tutti. 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 Pozzo di... Grazie a tutti. Voglio far provare anche a te questi attrezzini di legno. Vanno a massaggiare in modo abbastanza preciso la muscolatura. Soprattutto in questa zona. Massaggio le clavicole. I lati del collo. Grazie a tutti. Se ti va di girarti, adesso ti massaggio un po' dietro e ci mettiamo a favore di camera. Grazie. Ecco qua. Andiamo a lavorare. su questi lati su questi lati su questi lati del collo. Grazie a tutti. 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 E vado a fare uno dei miei massaggi preferiti. Quello che chiedo sempre, che va in contemporanea ad ammorbidire proprio questi muscoletti laterali. Bene, se vuoi ti puoi girare e continuiamo il nostro massaggino. Appoggia la testa, appoggiala tranquillamente, ti tengo qua. Adesso appoggia la testa di qua. Appoggia la testa. Ok. 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 Vado a prendere qualcosa per tamponare un po' l'olio. Ok. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il palo santo che è notoriamente un po' lento nell'accensione. Vale la pena aspettare perché è talmente buono. A questo punto un po' di coccoline sonore. Io adoro il suono di questa collana. Tu nomi chiudi gli occhi e concentrati solo su questo suono e sul tuo respiro. Respira profondamente e respira profondamente e rilassa tutti i muscoli. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E per finire voglio usare anche con te il goji chime che è da poco arrivato in questo studio. Grazie a tutti. 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 Vi ricordo che c'è una playlist completa con i video di questo genere. e per cui se vi piacciono potete trovarla sull'home page del canale ciao tesori ciao ciao